Le forze governative siriane hanno risposto domenica con pesanti bombardamenti nei quartieri est di Damasco all'offensiva lanciate dalle forze ribelli. Sia l'esercito siriano libero che gli jihadisti del fronte Fatea al-Cham, già noto come la frangia siriana di Al-Qaeda, sono implicati nell'attacco messo a punto ad appena due chilometri dal centro storico della capitale siriana nei quartieri di Jobara e Abbasiyen. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, l'offensiva a sorpresa dei ribelli è destinata ad aprire un nuovo fronte di combattimento, alleggerendo così la pressione già esercitata dalle forze del regime su tre quartieri ribelli a nord della capitale. Il bilancio fornito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani è non verificabile attraverso altre fonti, parla di almeno 12 vittime tra i militanti ribelli e 9 tra i soldati dell'esercito fedeli a Bashar al-Assad.